Buonasera, un benvenuto a tutte le persone connesse. Questo è il primo evento 2022 del Circolo UAR di Modena e il primo evento in collaborazione con Ciurma Pasta Fariana. Io e Leonardo Filippelli, che è il referente della Ciurma Pasta Fariana su Modena, abbiamo iniziato a pensare a questo evento prima dell'inizio del Festival Cecine Pound Blast Fem, che ha avuto luogo a Napoli a settembre dello scorso anno e abbiamo pensato che potesse essere bello portare un po' le conclusioni a distanza di qualche mese di quanto era successo, di come si era svolto il festival, fare un po' una summa, visto che non tutti hanno avuto la possibilità di vederlo. UAR, pur non incentivando la bestemmia, trova assurdo che esista una legge che tutela persone, la cui esistenza è indimostrabile, quando ad esempio il nostro stesso Stato non tutela affatto persone. La cui esistenza è decisamente più concreta e tangibile, come abbiamo visto con l'affossamento del DDL ZAN dello scorso anno. Le ospite di questa serata sono Adele Orioli, responsabile delle iniziative legali di UAR, ed Emanuela Marmo, direttrice artistica del Festival Cecine Pound Blast Fem, che ha visto lo scorso anno la sua prima edizione. Questo evento è correlato tematicamente a un evento che avrà luogo il 10 di marzo di quest'anno, auspicabilmente in presenza, e che vedrà Enrico Bongiovanni presentarci un excursus sulla censura cinematografica di Matrice Cattolica in Italia. Ricordo a tutti, prima di passare la parola a Leonardo, che possono lasciare le domande nel post della diretta, verranno tutte lette alla fine. Prego, Leo. Ciao a tutti, io sono Leonardo, sono membro della Ciuma Pastafariana, un'associazione di volontari, credenti e non nel prodigioso spaghetto volante. Questa associazione si occupa di campagne di lecità, ma con la particolarità di farlo da religiosi. Tra queste campagne possiamo citare i libri verso il vulcano, il vulcano di Birra sarebbe il nostro paradiso, una campagna che portiamo avanti insieme alla Luca Coscioni, la tagliatale in piedi, una forma di manifestazione dove i fedeli si adunano in piazza in maniera disordinata, pregando, mangiando e bevendo in piedi, e poi ad esempio di Escotto, che è la campagna che ha portato all'evento di cui parleremo oggi, e che già ha fatto incontrare le nostre due ospiti in passato in una conferenza in Campidogna. Quindi lascio la parola ad Adele e buon proseguo. Grazie, grazie a tutti, grazie al Circolo Guardi Modena, grazie alla Turma Passafariana, grazie ovviamente a Emanuela, alla quale cercherò di dare la parola nel più breve tempo possibile. Farò quindi semplicemente una quanto più breve panoramica, ma aperta ovviamente alle vostre domande, nel caso ce ne saranno, su quello che si intende appunto per blasfemia, vilipendio e censura, quantomeno nell'ordinamento italiano. E soprattutto, cosa significa dal punto di vista giuridico, ma ancor prima potremmo dire dal punto di vista logico, tutelare il sacro all'interno di una legislazione che dovrebbe essere civile e laica. Tutela del sacro che appunto è qualcosa di indefinibile e con buona pace del relativismo, ma assolutamente differenziabile da persona a persona, da momento a momento, da luogo geografico a luogo geografico, difficilmente sindacabile e cheppure viene posta alla base di tutta una serie di normative e di legislazioni, ovviamente anche in tutto il mondo, ma nello specifico oggi parleremo appunto del nostro stivale. Assurdità e logiche che la religione pastafariana porta in vera, potremmo dire, quotidianamente con la sua stessa esistenza. E quindi, che cosa intendiamo in Italia con le leggi anti-blastemia? Ecco, va detto che innanzitutto, siccome andiamo a complicarci la vita, quelle che normalmente vengono conosciute come leggi anti-blastemia in senso generico, in Italia vengono divise in due grosse, potremmo dire, grosse sezioni. Quindi da una parte c'è la blasfemia, strettamente intesa, dall'altra il bilipendio. Che cos'è la blasfemia? La blasfemia, articolo 724 del codice penale, è l'offesa o l'ingiuria alla divinità. E già qua possiamo capire un po' di assurdità facendo un piccolo escurso storico. Si stava meglio quando si stava peggio e questo vuol dire che attualmente il nostro codice penale è sempre quello fascista del 1930, il cosiddetto codice Rocco. È vero che ovviamente sono intervenute più o meno varie modifiche e varie sistemazioni della materia e le affronteremo in seguito, ma è altrettanto vero che l'impianto di tutta la nostra normativa penale quella è e quella resta. E infatti proprio nella persecuzione del reato, della blasfemia, della bestemmia strettamente intesa possiamo vedere qual è l'animus che circonda il nostro legislatore. Si stava meglio quando si stava peggio nel senso che il codice precedente, parliamo di fine 800, il codice Zanardelli, puniva sì la blasfemia ma non come offesa alla divinità piuttosto come offesa al sentimento religioso della persona. Ha ovviamente grandi difetti anche questo tipo di protezione, soprattutto alla luce adesso, nel ventunesimo secolo della nuova elaborazione, ormai robusta e accreditata per quanto riguarda i diritti umani fondamentali. Esiste il diritto di libera manifestazione del pensiero, non esiste il diritto di non essere offesi qualunque cosa possa portare alla nostra offesa. Purtuttavia era comunque meglio avere un reato basato su persone appunto realmente esistenti, quindi su l'animo sensibile dei credenti, piuttosto che quello che ci ritroviamo attualmente, che è un reato, poi depenalizzato ma vedremo come e in che modo, che mira a proteggere la reputazione della divinità, quindi la reputazione di un'entità dall'incerta esistenza, per di più all'interno di un codice che per quanto riguarda tutti i reati che riguardano la reputazione, quindi pensiamo alla calugna, alla diffamazione, richiede l'iniziativa di parte. Per spiegare meglio, ovviamente non è il PM, non è l'autorità, non è lo Stato che interviene a difendere me o chi per me, nel caso mi sentissi calugnata o diffamata da altre persone, ovviamente sono io che devo proporre azione a mia difesa. Vale per tutti i cittadini italiani, non vale per le divinità, perché il reato di blasfemia avviene a prescindere dal fatto che non sia mai stato verificato il caso di una divinità che abbia dato mandato al suo legale, al suo procuratore per sporgere querela. Purtuttavia è sufficiente pronunciare, come dice appunto l'articolo 724, in vettive o parole oltraggiose alla divinità per incorrere nella appunto quello che era un reato e quello appunto di blasfemia dall'articolo 724. Era nel senso che è vero che tutta la materia ha subito un'importante riforma di depenelizzazione, quindi attualmente la bestemmia in quanto tale non è punita con il carcere, è un illecito amministrativo, è punita con una sanzione amministrativa che va peraltro dai 51 ai 309 euro. Purtuttavia anche qui non è vero che sono scomparsi i reati quando si parla di blasfemia vilipendio e anche solo per quanto riguarda la semplice appunto bestemmia, quella che conosciamo tutti, insomma l'accostare alla divinità, normalmente a suini o a poveri canidi, gli animalisti hanno anche protestato per questa usanza e questo improprio accostamento. Ecco appunto, ciò nonostante, se questa bestemmia, quindi se questa ingiuria molto semplice che non riguarda le arti figurative, non riguarda le immagini, riguarda proprio la nostra semplice espressione ingiuriosa nei confronti della divinità, buona parte della dottrina, oggi ancora nel 2021, ripete che se questa bestemmia viene esplicitata sui social e soprattutto quei social che contengono il tastino condividi, lo share, quindi tipicamente ovviamente viene da pensare a Facebook, bene questo integri un reato vero e proprio e cioè quello previsto dall'articolo 415 che è istigazione a violare le leggi, non istigazione a delinquere perché appunto la bestemmia in quanto tale non è più reato in illecito amministrativo, furtuttavia è reato cercare di convincere o condividere o voler condividere sui social o convincere qualcun altro a bestemmiare in pubblico, quindi comunque noi siamo bravissimi in questo devo dire a far uscire le cose dalla porta, a farle rientrare dalla finestra e a volte addirittura viceversa, escono dalla finestra e poi rientrano in pompa magna dal portone. Va detto che appunto è vero che la blasfemia non è più reato ma aveva anche un grosso problema oltre al presentarsi come reato penale, poiché appunto abbiamo detto Codice Rocco 1930, la bestemmia riguardava esclusivamente la religione cattolica, cioè era perseguibile soltanto chi osava indettive ingiuriose nei confronti della specificatamente divinità cattolica, per le altre divinità veniva ritenuto sufficiente il turpiloquio che è peraltro anche questo reato abolito nel 1999. La Corte Costituzionale investita della questione, tutt'altro che banale, del fatto che ormai dal 1984 l'Italia dal cosiddetto secondo concordato non ha più una religione di Stato e quindi investita della questione come fosse possibile una tutela specifica e privilegiata a quella che veniva nel codice chiamata appunto religione di Stato, ma che religione di Stato non era più, ha perso, ha clamorosamente mancato l'occasione di abolire semplicemente questo tipo di legislazione come peraltro, non è che lo diciamo noi del luar, come peraltro suggerisce, ha suggerito anche formalmente nel 2014 l'ONU, come peraltro hanno fatto man mano moltissimi paesi, l'ultimo molto noto 2018 l'Irlanda attraverso un referendum e certo non si può dire che l'Irlanda non sia un paese cattolico. Nella nostra Corte Costituzionale invece nel 1995 ha clamorosamente mancato la possibilità di espungere questi relitti residuati di altre epoche e di altre concezioni dell'ordinamento della protezione giuridica dell'individuo e quindi invece di sentenziare come peraltro molti si aspettavano che non esistendo più una religione di Stato andasse semplicemente eliminato e spunto il reato o comunque la fattispecie di blasfemia, ha deciso invece di estenderla, quindi di tenere il reato ancora in vita, appunto depenalizzato e di estenderlo a tutte le divinità conosciute. Quindi non solo si protegge una divinità dall'incerta esistenza ma si proteggono tutte quelle sostanzialmente dell'orbe terracue, compreso ad esempio il prodigioso spaghetto volante. Ovviamente questo ha portato a un solco ancora più profondo tra quello che dovrebbe essere appunto la logica giuridica e la tutela delle singole persone. È evidente che al di là del fatto che sia una multa o che possa trasformarsi in reato se fatto sui social, la tutela appunto di una divinità, quindi di una incerta esistenza che non ha spazio in un ordinamento giuridico civile, proprio perché non si basa né sul concetto del sacro né sul concetto religioso, un intraterreno di un'entità sovrannaturale, è evidente che crea già così di primo acchitto una stortura del sistema. E non è un caso se da noi viene usata abbastanza frequentemente, secondo un'inchiesta di una commissione statunitense, l'Italia è il settimo paese al mondo per quanto riguarda le sanzioni nei confronti della blasfemia, per quanto siano monetarie e sono comunque frequenti, molto più frequenti di quanto possiamo sapere noi. D'altronde, anche qui, essendo un illecito amministrativo, non c'è un casellario giudiziale, non c'è un foro italiano nel quale siano riportate le multe per bestemmia. Vengono normalmente affidate ai vigili urbani e se ne perde traccia se non casi di cronaca che vengono alla ribalta, ad esempio l'automobilista multato in coda o il padre multato davanti alla scuola dei figli e che ha ricevuto la multa bestemmiato perché aveva ricevuto una multa e quindi ne ha immediatamente presa una seconda nel raggio di cinque minuti. Tutte queste cose sono in realtà già sufficienti a dire che quella della bestemmia, anche se appunto da noi può essere una multa, possono essere 300 euro, non è come accade in almeno nove paesi del mondo dove tramite le leggi anti-blastemia i non credenti vengono messi a morte, quindi assolutamente nessuno vuole fare paragoni di questo tipo, però è pur vero che è evidente come in una moderna concezione, in una contemporanea concezione dei diritti umani fondamentali, il diritto sia quello della libera manifestazione del pensiero, non sia certo il diritto di una protezione di un sacro dagli incerti connotati soprattutto quando questo sacro viene addirittura perseguito d'ufficio. Ma appunto, dicevamo prima, la bestemmia, la blasfemia, l'insulto alla divinità quanto tale non si applica ad esempio alle immagini figurate, non si applica all'arte, non si applica nemmeno al discorso che vada oltre alla singola bestemmiona come la conosciamo noi e com'è peraltro intercalare anche in alcune realtà e anche questo crea una discreasia abbastanza profonda, insomma un illecito amministrativo in alcune zone d'Italia, tipicamente si cita, non me ne vogliano gli amici veneti, ma tipicamente si cita il Veneto, ecco dovrebbe essere una sequela di infrazioni veramente a velocità ravvicinata, ma proprio perché anche lì la sacralità e l'idea del sacro non è necessariamente connessa a un'espressione e anzi spesso diventa un intercalare proprio perché perde completamente la connessione con questa entità appunto dall'incerta esistenza, in cui però lo Stato italiano è ancora così sollecito e premuroso nel volerne garantire la fama, l'onore e la rispettabilità di chi appunto non si dà. Dicevamo però non si applica ai discorsi un po' più articolati che non siano il semplice insulto, non si applica all'arte figurativa, non si applica alle immagini, la bestemia, la blasfemia ex articolo 724 del codice penale. Allora vuol dire che per una volta tanto siamo liberi, ma ovviamente no, ma nemmeno per sogno e infatti noi abbiamo anche tutto la secondo blocco di cui parlavamo prima, c'è quello delle fatti specie di bilipendio. Esiste la traduzione tra l'altro anglofona, il bilifaes eccetera eccetera, però devo dire è proprio tipicamente del nostro ordinamento distinguere in due blocchi così netti da un lato la bestemmia, la blasfemia e dal lato tutto quello che invece riguarda altri tipi di offese dirette, diciamo morali o anche materiali. Infatti quando parliamo di bilipendio ci spostiamo in un'altra sezione del codice penale, ricordiamo la blasfemia è sotto la sezione polizia dei costumi, d'altronde appunto è un codice del 1930 mai cambiato nel suo impianto e quando parliamo di bilipendio noi non parliamo più di un'offesa a una divinità. Il bilipendio è invece l'offesa alla confessione religiosa direttamente, quindi scendiamo un po' più nel concreto, scendiamo un po' più nel terreno, pur tuttavia creiamo evidentemente categorie di persone più uguali degli altri, di realtà più uguali degli altri. Non c'è infatti una tutela specifica per l'offesa alle associazioni filosofiche non confessionali come l'UAR, non c'è una tutela specifica all'offesa ad esempio ai non credenti in generale. Ricordo sempre un Salvini da Ministro dell'Interno che disse che un insegnante ateo ha qualcosa di meno e ha qualcosa che non va. Ecco, espressioni di questo genere provate a pensarle rovesciate ai partecipabili su qualunque fedele di qualunque religione avrebbero creato il massimo scandalo e già questo è un dislivello che è inaccettabile per un ordinamento che in teoria ci dice l'articolo 3 della nostra suprema carta appunto della nostra Costituzione che in teoria siamo tutti uguali. Già qua vediamo che proprio tutti uguali non siamo. Quindi il vilipendio persegue tutte le possibili offese a una confessione religiosa. Offese che possono derivare sia dal vilipendio di cose sia dal vilipendio di persone. E anche qui quando ci viene detto che ormai quello di blasfemia e vilipendio è una fattispecie desueta non più applicata, ricordiamo che è del 2006, quindi più o meno in termini giuridici dell'altro ieri, la fattispecie speciale del danneggiamento di cose liturgiche o destinate comunque al rito. Sono due anni di carcere. Non è vero che è stato depenalizzato tutto ciò che riguarda la protezione del Sarsus che rischiate una multa. Per la distruzione di oggetti di culto, quindi del vilipendio di confessione religiosa, mediante la distruzione di oggetti di culto, si rischiano fino a due anni di carcere. Oltre al vilipendio delle cose c'è ovviamente il vilipendio di persone. Qui non c'è il carcere, si ritorna alle pene pecuniarie, ma anche qui c'è chi più uguale degli altri. Cioè se uno commette il vilipendio offendendo i fedeli, quindi chi professa la religione, può essere condannato da uno cinque mila euro. Se invece io offendo la religione offendendo i ministri di culto, quindi i religiosi, gli esponenti, allora sono condannato dai due ai sei mila euro. Anche qui appunto c'è qualcuno un po' più uguale degli altri che ci provoca pene maggiori. Ricordiamo anche che tra l'altro il vilipendio è anche lì una di quelle fatte di specie in cui non serve la nostra volontà. Noi possiamo anche non avere nessuna intenzione di commettere vilipendio, ma se la nostra espressione è considerata vilipendiosa, come dire, ci attacchiamo al tram e quindi comunque possiamo essere condannati. Quindi non serve nemmeno il dolo, diciamo così, mi perdono i nipuristi in ascolto, ma non serve nemmeno il dolo del nostro comportamento. Potremmo anche avere la minima idea di stare commettendo appunto un illecito ed essere comunque condannati lo stesso. Per finire, ultima fattispecie del vilipendio, sempre perché ovviamente siamo tutti depenalizzati e parliamo di piccoli spiccioli di multa, ricordo che per il turbamento di funzione religiosa si rischiano fino a due anni di carcere. Se questo turbamento è effettuato con la violenza, gli anni di carcere possono essere fino a tre. Quindi anche la turbativa di funzione religiosa è considerata ancora oggi assolutamente un reato e non perché anche qui il danneggiamento non dovrebbe essere reato o il rovinare un consesso con atti violenti non dovrebbe esserlo. Assolutamente non stiamo chiedendo l'impunità per tutto ciò che va contro la religione, ma semplicemente ci sono già le fattispecie che proteggono appunto dal danneggiamento. Che sia una statua di Darwin o una statua di Padre Pio non si capisce dal punto di vista logico, dal punto di vista laico di uno Stato che si dichiara appunto laico, democratico e civile, dove dovrebbe essere questa cosiddetta differenza o questo valore aggiunto, soprattutto considerando che comunque sia la percezione appunto del sacro rimane, che ci piaccia o meno, un fatto prettamente umano. Quindi possiamo anche disquisire intorno all'esistenza o meno, sicuramente la base di certezza è che ciò che viene percepito sacro è percepito come sacro dall'essere umano. e non da qualche entità sovraterrena. Che cosa però anche qui? C'è un conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero, assolutamente sì, è evidente che c'è. E soprattutto c'è non tanto nella bestemmia, ma c'è anche in questa, perché abbiamo già detto, è difendere l'onorabilità di chi non sappiamo nemmeno se esista, quantomeno è anacronistico oltre che illogico. Ma c'è comunque un limite, diciamo così, ben preciso tra quello che può essere la libera manifestazione del pensiero e quello che invece il nostro ordinamento ritiene sanzionabile come blasfemia. Già la Cassazione nel 1992 ci diceva che una cosa è la libera manifestazione del pensiero e una cosa è la pubblica manifestazione di volgarità. E quindi intendendo la bestemmia prima ancora del vilipendio come appunto una volgarità perseguibile. Per quanto non mi risulti che la volgarità sia un parametro giuridico, ci può essere l'oscenità, ci può essere la perversione dei costumi. La volgarità, comunque la maleducazione in quanto tale, ancora non lo è. Ma quello che veramente ci dà la misura di quanto sia importante parlare e lottare contro le leggi anti-blasfemia, perché rappresentano non solo in tutto il mondo, ma anche qui, nella serie Aiutiamoci a casa nostra, una pesantissima limitazione della nostra libertà di espressione, è quanto ha dichiarato la Cassazione penale nel 2015 a proposito appunto della differenza tra legittima critica alla religione, potremmo anche parlare in qualche modo, quello che è legittima critica alla religione e quello che è invece vilipendio, quindi un'offesa vera e propria. E cosa dice la Cassazione? Beh, dice una cosa agghiacciante, che sostanzialmente, ve lo leggo testuale perché merita, che si integra il vilipendio quando attraverso un giudizio sommario gratuito si manifesti disprezzo verso la religione, disconoscendo alle istituzioni, alle sue essenziali componenti, le ragioni di valore e di pregio ad esso riconosciute dalla comunità. Allora, vomitiamo tutti insieme nel senso che innanzitutto la Cassazione qua ci dice parecchie cose e sono una più pesanti dell'altra. Allora, è vilipendio se il giudizio è sommario e gratuito? Che cosa si intende? Devo essere un teologo? Devo essere stato, ad esempio, perseguitato in prima battuta per criticare, non so, le crociate? Sicuramente non posso essere stato un crociato. E soprattutto cosa significa disconoscere il ruolo di valore e di pregio della religione? E perché dovrebbe avere uno specifico valore di ruolo e di pregio all'interno del riconoscimento di uno Stato che di religione, ripeto, di Stato non ne ha nessuna, quantomeno dal 1994, che ci dice che siamo tutti uguali, che ci garantisce costituzionalmente il diritto di libera manifestazione del pensiero. Soprattutto considerando appunto questa pronuncia del 2015, mentre invece per quanto riguarda la normativa a cui noi siamo comunque tenuti a sottostare, viene subito in mente la Corte Europea dei diritti dell'uomo, già nel 1976 aveva ben chiarito che la libertà di espressione del pensiero e la libertà di parola include la libertà di offendere, sconvolgere, scandalizzare. E che è questo il valore preeminente, il diritto umano fondamentale che uno Stato dovrebbe portare avanti. Non certo il valore di tutela di una singola individuale espressione che addirittura viene tutelata ancora maggiormente e con più severità di quanto siano le stesse istituzioni. Pensiamoci bene anche dai casi di cronaca, quanti vilipendi di capo di Stato nei confronti del nostro Presidente della Repubblica vengono poi portati avanti penalmente e quanto al contrario vilipendio di capo di Stato estero o di ministro di culto, a seconda un po' di come ritorna. Ci sono le rugatorie internazionali e ministro di capo di Stato estero. Se ci sono invece le moral suasion, un capo di confessione religiosa, parliamo insomma del Papa, ecco già questi tipi di indagini e di avvenimenti, quindi di condanne anche perché ce ne sono state anche parecchie per vilipendio di capo di Stato estero o di ministro di culto nei confronti del Papa, ecco sono molto più frequenti di quelle che tutelano il nostro Presidente della Repubblica, ammesso o non concesso, perché anche di qua se ne può parlare, che ci debba essere necessariamente una tutela differenziata e che vada oltre a quella appunto garantita più o meno a tutti noi. Nel caso del Presidente della Repubblica potremmo anche essere d'accordo, prima carica dello Stato insomma, non ce lo dimentichiamo, nel caso del Papa appunto ne lo siamo decisamente meno se non per nulla. Detto ciò, e quindi arrivando al discorso di come poter esprimersi liberamente in un ordinamento che ancora adesso, nonostante quanto si voglia propagandare, preferisce privilegiare la tutela del sacro rispetto alla tutela della libera espressione del pensiero, dell'arte in quanto tale della coscienza in tutte le sue possibili forme, che sia appunto dal bestemmione ma che sia nella forma ben più articolata di un saggio, di un'opinione motivata, di un'espressione artistica. È indubbiamente molto difficile e poi arriviamo al terzo punto dell'incipit del titolo dell'incontro di oggi e c'è quello della censura. E quando parliamo di censura noi dobbiamo subito fare vari distinguo, perché se intendiamo la censura come tutti quegli atti che sottopongono a un parere preventivo successivo le espressioni del pensiero a quelle dell'autorità, in Italia di per sé, nonostante siamo settantatresimi o quantomeno intorno sempre alla settantesima posizione per quanto riguarda la libertà di stampa, in realtà in Italia non sono tanti i casi di censura per blasfemia numericamente intesi che ci toccano. Possiamo, potremmo dire, distinguere tra la censura appunto legislativa, quella che tocca comunque tutti i mezzi di informazione, tutti gli spettacoli, non tocca più il cinema, so appunto che il circolo di Mona l'ha già annunciato, ci sarà un'iniziativa su questo, quindi ne parleranno sicuramente, ma insomma in teoria la censura è stata abolita l'aprile di quest'anno, sostituita da un tipo di commissione che dovrebbe lavorare su criteri differenti, però per quanto riguarda appunto stampa, spettacoli e diffusione massmediatica, nel senso ampio del termine, indubbiamente ancora è pieno il diritto di censura e basti vedere anche quello che succede sui nostri programmi RAI. Ho visto che Wikipedia ha un divertente compendio di tutte le puntate che la RAI ha tagliato, censurato, tendenzialmente sono appunto tutto ciò che riguarda tematiche LGBT che riguardino sitcom per adolescenti o concertoni del primo maggio, eccetera, eccetera. Detto ciò però nel nostro caso spesso quello che pesa di più è la, potremmo dire, censura impropria, anche qui i giuristi all'ascolto non mi tirino qualcosa. Intendo come censura impropria quella che effettivamente non è quella giuridicamente intesa sulla base di norme, di regolamenti, eccetera, eccetera, ma è quella che avviene ad escludendum, cioè semplicemente escludendo, impedendo il libero accesso agli spazi, alla comunicazione di tante nostre realtà. Un esempio che coglie entrambi gli aspetti è la nostra campagna Ateobus, l'illuminata regia credo che abbia l'immagine. Quella che vedete, ecco, la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona che non ne hai bisogno. Questi sono i famosi Ateobus che ci diedero anche parecchia notorietà e che non hanno mai circolato. Quello che vedete è un rendering. Ci fu infatti impossibile per, possiamo dire, una censura di fatto, per quanto non giuridica, ci fu impossibile far circolare questo messaggio sugli autobus proprio perché la concessionaria, più o meno monopolista di tutte le affissioni, ci negò semplicemente il permesso e ci negò l'autorizzazione e ne aveva la facoltà. Sempre quella stessa immagine però a Papozze in provincia di Rovigo costò la denuncia, poi archiviata ma non per assoluzione, la denuncia di vilipendio a confessione religiosa al nostro referente guarra appunto Maglio Padovanna nella provincia di Rovigo perché questi manifesti affissi regolarmente negli spazi pubblici vennero poi bloccati e sequestrati e il nostro referente venne indagato appunto per vilipendio, poi ripeto il procedimento archiviato. Questo è un tipico esempio di come spesso in questo caso si sono associate entrambe le questioni, quindi una censura impropria o non una censura così come la legge prevede solo su determinati peraltro solo su determinati espressioni artistiche, televisive o massmediatiche e dall'altra quella proprio del vilipendio vero e proprio esattamente come peraltro di censura noi abbiamo sofferto come UAR e questo proprio per, prima di passare la parola a Emanuela, per far capire a quali livelli di stortura si possa arrivare attraverso appunto la protezione di un sacro non beninteso, noi siamo stati censurati a Genova, siamo pendenti attualmente anche al Consiglio, alla Corte Europea dei Diritti Umani per la nostra campagna Non Affidarti al Caso, o testa o croce che invitava a informarsi, presso il proprio medico se fosse o meno obiettori di coscienza, questa campagna è stata accusata dal Comune di Genova di essere addirittura un possibile pericolo per gli adolescenti che potevano passare ad essere perturbati da questa immagine altamente lesiva, secondo loro, della professionalità dei medici obiettori o comunque dei medici cattolici, dei medici con l'approccio insomma. E un'altra causa che invece abbiamo vinto, un'altra censura che abbiamo subito e anche qui per vedere a cosa può portare la tutela del sacro è la nostra campagna Vivere Bene Senza D, censurata a Genova, censurata a Verona e per i quali siamo dovuti stare in causa sette anni e solo sostanzialmente l'anno scorso per la prima volta in Italia, grazie a questa nostra iniziativa legale, è stato dichiarato nero su bianco che la propaganda ateistica si può fare anche semplicemente negando l'esistenza di Dio e che quindi negare l'esistenza di Dio non rientra nel concetto di ingiuria o offesa a una divinità ma è semplicemente l'espressione dell'altra metà del cielo della libertà religiosa, cioè della libertà di non averne alcuna. D'altronde se appunto nemmeno che Dio non esiste non è più possibile dirlo davvero noi non credenti non ci rimane più nulla ma d'altronde lo vediamo insomma Gesù ti ama si può scrivere sui cavalcavia noi per dire che noi stiamo bene senza Dio nemmeno per dire che non esiste ma per dire che siamo noi stessi che viviamo bene senza Dio dobbiamo fare sette anni di ricorsi per via amministrativa per poi finalmente trovare quella che ovviamente è una grande vittoria ma che dovrebbe essere la scoperta dell'acqua calda e che non avrebbe dovuto nemmeno portare a un contenzioso. Quindi detto questo è evidente che tutte le leggi che si fondano sulla tutela della blasfemia o vilipendio che dir si voglia ma che si fondano su una tutela privilegiata di un sacro dagli incerti contorni dall'incerta esistenza dall'incerta definizione e che appunto per questo è particolarmente importante l'apporto della chiesa pastafariana perché appunto chi può giudicare cosa è sacro o cosa è no per ciascuna individualità e non è solo una questione di chi controlla i controllori ma è soprattutto una questione di chi dà la forma dei diritti individuali all'interno dell'ordinamento quindi è più importante l'uomo che nel mio sommesso avviso si è creato Dio ma comunque in generale è più importante l'uomo o è più importante una tutela di una strana evanescente e non logica e non riconducibile alla logica giuridica tutela del Stato. Su questa base appunto in tutto il mondo vengono silenziate le minoranze vengono represse le minoranze vengono anche perseguitati anche pesantemente i non credenti per fortuna per quanto il nostro sia un paese ad altissimo tasso clericale ancora in galera non ci sbattono purtuttavia la sola e semplice presenza di queste fatti specie reati illeciti amministrativi eccetera eccetera e la loro frequente applicazione le abolite a fare vengono applicate poco beh sarebbe un motivo in più per abolirle allora visto che sono desuete in realtà non lo sono affatto bene tutto questo dimostra come sia ancora lunga la strada per arrivare a una completa parificazione della libertà di esprimersi della libertà di espressione del pensiero che quindi venga anche parimenti concessa a chi del sacro non ne vuole sapere o quantomeno lo irride perché rimane un suo diritto umano fondamentale a differenza della onorabilità insomma dell'amico immaginario io per ora mi fermerei qua se non ci sono domande particolari e ovviamente a disposizione ma appunto direi che è il momento di lasciare la parola a manuela e vedere cosa succede appunto nel nostro ordinamento nella nostra realtà quando si parla di tutela tutela del sacro da una parte e libertà di espressione artistica dall'altra bene buonasera a tutti e grazie mille per aver dato a tutti noi un'opportunità per ritornare su questi argomenti perché non in realtà se ne parla meno di quanto si dovrebbe vabbè io adoro ascoltare adele perché semplicemente descrivendo la situazione giuridica si ha contatto con l'assurdo cioè le vicende che lei ha raccontato sono ironiche io sono un amante dell'ironia e quindi percepisco proprio l'ironia di quello che lei racconta ed è la realtà ringrazio poi luar perché a riguardo del festival di cui parleremo in abbondanza hanno centrato un problema che è l'unico rischio che io sento di correre realmente ovvero l'assenza di spazi per la cultura tilericale quando è successo inimmaginabile intorno al nostro festival luar ha preso parola centrando una questione fondamentale perché i nostri detrattori ci hanno attaccato su più fronti ma era rispondere a quegli attacchi era quasi come sparare sulla croce rossa erano talmente tonti che insomma rispondere era utile in termini di comunicazione di essere presenti no sulla cresta dell'onda però luar ha raccentrato un un problema perché tra le tante cose di cui siamo stati accusati una delle più rilevanti nel senso che ha più potenziale di avere conseguenze fu che perché l'assessorato alla cultura il sindaco di napoli concedono uno spazio pubblico gratuitamente ad una mostra antipilericale non si può vedere una cosa del genere in uno spazio pubblico in una galleria privata lo puoi fare ma in uno spazio pubblico no e luar quindi ha individuato un problema focale uno stato a confessionale dovrebbe essere neutrale nei confronti delle idee e salvo idee discriminatorie o comunque di incitamento all'odio perché non dovrebbe concedere degli spazi a una forma eh d'arte che eh esprime rabbia nei confronti della divinità o comunque delle istituzioni religiose esattamente come perché non dovrebbe concederla a delle forme d'arte che invece tessono lodi e dinni eh nei confronti di divinità cioè in letteratura in arte in cinema il sacro e il profano sono assolutamente eh ugualmente possibili e campi esplorabili fatto questa parentesi che secondo me è molto importante perché è lo scoglio contro il quale io naufragherò forse non lo so a meno che non interventa intervenga un birracolo ehm penso che la cosa migliore sia raccontare la mia storia sono l'esempio pratico di quello che può succedere a chi si addentra in determinate questioni io non pensavo di diventare un esempio pratico io pensavo semplicemente che gli avrei raccontati gli esempi pratici invece io stessa il mio staff siamo diventate una di quelle storie che noi scienziamo raccontiamo e divulghiamo dunque non si può parlare di Sessine Pamblas Fem se non parliamo di Dio Scotto io sono pastafariana quindi ho una prospettiva spirituale nei confronti della realtà Dio Scotto è la tipica bestemmia pasta fariana il nostro Dio ha una peculiarità che è quella di non offendersi noi di questo siamo abbastanza sicuri o comunque sicuri fino a prova contraria perché notiamo che quando qualcuno bestemmia nessuno viene fulminato non si apre una voragine in terra che lo risucchia non si non viene bruciato vivo per forze diciamo misteriose e oscure dunque l'intervento divino non si palesa se non si offende Dio perché dovremmo offenderci noi perché nasce Dio Scotto? Dio Scotto nasce per tanti motivi un po' per siamo vanitosi quindi per rappresentarci come dei religiosi più fighi degli altri perché appunto non siamo permalosi ma anche perché avevamo avuto un problema concreto un nostro attivista durante un discorso pubblico in favore dei diritti eh LGTB Gian Pietro Belotti il nazista dell'Illinois non potendo essere attaccato sulle sue opinioni è stato murtato per bestemmia e quindi abbiamo mh rilanciato questa notizia abbiamo aperto un fondo di solidarietà nei confronti delle vittime della settecento ventiquattro e eh abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto in appoggio ad End Blasphemy Lose eh per chiedere l'abolizione delle leggi che mh puniscono la bestemmia. Io eh che avevo diciamo un passato di organizzatrice di eventi culturali ero se sono da sempre molto a contatto con la satira so sapevo molto bene quanto questo eh fenomeno impattasse negativamente con la libertà di espressione e mh quindi mh ero mi sono occupata quasi esclusivamente di questa di questa campagna e quando parlavo del diritto a anche ad essere offensivi no? Nei confronti di qualcosa di imponderabile per moltissime ragioni perché può essere un intercalare perché può essere un modo di avvicinare l'imponderabile al carnale e quindi avere un controllo della situazione in realtà esorcizzare la paura il senso di disagio ecco mh io mi scontravo contro una sensazione a volte era proprio esplicita le persone mi dicevano ma questo problema non c'è questo problema c'è in Pakistan in Iran eh in Nigeria ma non c'è in Italia non c'è in Europa è una battaglia eh inutile mh è soltanto per fare polemica nei confronti della chiesa che adesso non è neanche più un potere cioè che può fare la chiesa poverina è eh debole nessuno va più a messa quindi che cos'è questa battaglia che stai facendo e invece io sapevo che questo problema c'era perché ehm iniziamo a focalizzare un aspetto un aspetto che poi mh se si ne pam blasfem ha portato la luce e l'associazione falsi Magritte che ho successivamente eh costituito mh ha trasformato nell'oggetto delle proprie attività è vero che le leggi che puniscono la blasfemia soprattutto diciamo nei paesi democratici vengono depenalizzate a volte completamente cancellate ma c'è un problema il sentimento religioso è diventato un oggetto politico molto potente e quindi in Pakistan agisce in termini legali di polizia ti prendo e ti incarcero e possibilmente ti ammazzo eh da noi cosa accade? Da noi accade una pressione preventiva le case editrici eh ti mandano all'ufficio legale e ti dicono no ma cancellala questa bestemmia perché altrimenti le organizzazioni religiose ci denunciano dillo in un altro modo dillo in un altro modo dillo in un altro modo spettacoli di stand up comedy che vengono cancellati perché potresti dirlo in un altro modo ora forse è vero andando in un bar consumando un caffè vado a sbattere con il piede contro il tavolo forse lo potrei dire in un altro modo aia forse mi potrei porre il problema che c'è un bambino in quel bar e dire non so bestemmiare non è proprio carino ed educato effettivamente potrei farlo in un altro modo così come quando bevo non risucchio eh oppure non non mangio con la bocca aperta potrei essere più educata ma dirlo in un altro modo in arte è un problema enorme perché in arte la forma il contenuto si intrecciano in un modo incredibile indissolubile l'artista è le parole che dice non è il suo contenuto il contenuto a volte può essere anche estremamente blando allora cosa è accaduto io volevo dimostrare che questo problema c'era e quindi ho chiesto aiuto al mondo dell'arte e della cultura perché era il mio mondo e le persone che hanno aderito alla campagna erano artisti i quali sapevano benissimo a differenza del cittadino medio quanto invece l'esistenza di queste leggi ha una correlazione con la cultura di ciò che è corretto fare o non fare il riferimento al sacro noi non siamo religiosi ma siamo ben educati e pensiamo che un l'unico modo possibile di avere rapporto con il sacro in cui non crediamo è di comportarci come se ci credessimo quindi di rispettare la croce di rispettare la madonnina nella nella classe io non ci credo però allora la comunità può anche decidere di fare così le comunità le società si mettono d'accordo su che cosa è importante per loro vogliamo conservare dei simboli nei quali non tutti credono quindi simboli che escludono chi non ci crede perché è meglio escludere chi non ci crede piuttosto che chi crede non possono essere esclusi però in arte questa cosa è veramente molto molto problematica vi faccio degli esempi concreti c'è una bellissima opera di mimmo borrelli che si chiama un'opera teatrale che si chiama asciameca è stata ce n'è una su youtube potete trovare una versione molto ben eseguita da servillo ebbene ci sono tre pagine di bestemmie borrelli non lo può dire in un altro modo quella carnalità quell'espressività anche un po demoniaca diavolesca non lo può dire in un altro modo perché lì è tutto lo spirito del popolo che emerge quindi con dio scotto mi sono resa conto che il problema legale esisteva ma non dava la misura di un fenomeno sommerso quindi che cosa è successo è successo che abbiamo chiesto al comune di napoli di darci la possibilità di fare organizzare una mostra un evento in piazza dante nel 2019 avevamo preso diciamo spunto da una questione la bestemmia è sanzionabile se avviene il luogo pubblico allora cosa abbiamo fatto noi abbiamo disegnato sul sul sulla piazza sulla pavimentazione di piazza dante la planimetria di un appartamento quello spazio non era più pubblico diventava lo spazio interno di una di un appartamento privato ma non c'erano i muri perché era una planimetria e quindi abbiamo consentito alle persone di vedere tutte le bestemmine blasfemie che questa collezione privata esponevano fu una cosa molto forte e non ce la mando buona perché venne il diluvio universale quel giorno e quindi un allestimento a cielo aperto l'abbiamo potuto tenere in piedi poche ore però quell'esperienza è stata fondamentale perché ha fatto da staffetta io in quell'occasione avevo coinvolto dei subvertiser che avevo conosciuto per una questione molto interessante di vilipendio della religione ogre e double y a roma avevano installato nelle pensierine dell'atac dei manifesti pubblicitari il subvertising utilizza le stesse regole gli stessi strumenti e anche gli stessi canali di diffusione nel marketing della comunicazione di massa per sovvertire valori consumistici nei quali non credono e in generale forme di propaganda ecce homo erectus e immacolata conceptio in vitro si riferivano a due tipi di propaganda la propaganda religiosa ecce homo contesse innanzitutto l'immagine di gesù occidentale figo bello biondo con gli occhi azzurri e nel colpire questa immagine di virilità occidentale ha pensato anche di fare un riferimento esplicito e molto forte alla questione della pedofilia nel clero c'è questo gesù con il pene eretto e un bambino piegato in ginocchio il simbolo di preghiera che è una chiarissima allusione e poi c'erano le due madonne di double wire imprigionate nella tipica mandorla eh virginale due donne in amore eh e quindi la domanda è se l'immacolata concezione della vergine maria non è peccato perché deve deve esserlo eh la conce il concepimento in vitro quindi questo dio che in fondo è così fantasioso perché cammina sulle acque fa diventare i genitori dei delle persone centenarie eh fa partorire una vergine perché un dio così fantasioso dovrebbe poi impedire a delle donne a due donne che si amano di diventare madri una domanda ecco loro sono stati denunciati per vilipendio della religione quindi coinvolgere questi artisti mi ha dato delle grandi opportunità e arriviamo a Sessine Pan Blasfe che è una è una frase un'affermazione questa non è blasfemia in occasione della dell'evento di cui vi ho parlato a Napoli io ho conosciuto un artista incredibile di cui si sa pochissimo di nome Marte lui mi contattò per regalarmi delle cartoline realizzate da lui ispirate a Magritte Sessine Pan Pip di Magritte eh sintetizza il nostro principio il principio con cui noi abbiamo organizzato questo festival quando Magritte dice questa non è una pipa che cosa intende dire che la raffigurazione la rappresentazione della pipa non è la pipa nella realtà dunque la rappresentazione di un'immagine sia essa sacra sia essa non sacra non è non è comunque la realtà gli artisti che utilizzano le icone sacre non sempre quasi mai anzi vorrei dire eh si stanno relazionando con contenuti di fede a Ogre non gli interessa niente che ci siano persone che credono nella divinità di Gesù non è neanche nel suo interesse comunicativo Ogre sta utilizzando una icona che è un marchio pubblicitario Gesù per Ogre è un marchio pubblicitario è il marchio è il logo attraverso cui si si affermano valori di purezza eh di bontà di generosità di fratellanza ma anche altro e loro ci raccontano di questo altro quando le immagini sacre escono fuori dai loro tempi e invadono le nostre strade non appartengono più al culto diventano di tutti se non sono di tutti restano a casa loro non restano a casa loro sono di tutti e gli artisti le usano come usano le parole come usano i materiali ecco che cosa fanno gli artisti con le figure con le icone e quindi se sine pan blasfem questa non è blasfemia ci introduce nel cuore della questione ma come mai non diciamo più anticlericale che cosa è successo alle nostre società per cui noi non diciamo più anticlericale perché in fondo è questo cioè gli artisti si lagnano dell'ingerenza dei poteri religiosi nelle nostre vite nelle nostre vite individuali collettive ma che allora non interessa offendere dio salvo posto che in arte c'è anche questo perché il sacro è è per alcuni una realtà e alcuni hanno un rapporto sereno con il sacro e altri no e nelle loro performance artistica letterali o di cristiano magari raccontano anche questo ma nella maggior parte dei casi non è neanche blasfemia non c'è non c'è neanche l'insulto al sacro c'è semplicemente un atto di denuncia nei confronti dei poteri religiosi che ehm ringraziando eh one all eh one law for all che è una delle organizzazioni che ha supportato eh il festival mi piace adesso definire fascismi religiosi penso che eh con questo riuniamo molte fatti specie questa non è blasfemia quando noi abbiamo messo su il festival volevamo raccontare diverse storie cioè mh tutte le arti sono state coinvolte per questo festival che si intitola appunto il festival delle arti per la libertà di espressione e abbiamo fatto delle scelte che potessero raccontare diversi aspetti di questo problema essendo collegati in qualche modo a Dio Scotto abbiamo iniziato con Pierz che ha eh realizzato due opere molto interessanti un porco in pretura che è un'opera divulgativa in fumetto che racconta appunto ciò che che vi ha raccontato eh ad l'ele in effetti eh e Dio è il migliore amico dell'uomo Pierz in quest'opera insegna come bestemmiare senza incorrere in reato è veramente molto divertente e ehm l'introduzione al festival attraverso Pierz era anche completata da un dispositivo di design progettato dall'architetto Agostino Granato che è la Blasphemy Box che riprende un po' il principio sperimentato in Piazza Dante cioè quello di trasformare un luogo pubblico in un ambito privato ispirandoci ai cessi chimici noi abbiamo realizzato una cabina dove è possibile bestegliare in tutta sicurezza perché si può installare in qualsiasi luogo a a bordo campo per esempio saprete sicuramente che i calciatori gli allenatori sportivi sono grandi bestemmiatori il giorno dopo si pentono e ritrattano però fondamentalmente mentre giocano ne lanciano diversi e vengono sanzionati molto severamente sborsano un sacco di quattrini ecco questa introduzione ci ha messo ehm in contatto con la premessa legata al diritto e a tutte le questioni del diritto introdotte da Adele e poi dopo cosa abbiamo fatto? Innanzitutto vi presentiamo un esempio di arte anticlericale e quindi abbiamo portato in mostra Don Sauker di Daniele Caluri di Emiliano Pagani che è un sacerdote ma in particolare è un esorcista quindi sapete che gli esorcisti sono i più puri tra i puri e sono anche teologicamente molto ferrati Don Sauker non è per niente così perché è un stupratore è un malato di sesso è venale è un personaggio anche molto stupido ma peggio di lui sono i fedeli che gli danno credito nonostante tutto semplice il rispetto diciamo di un abito di un di un vestito cioè l'abito fa il potere e quindi anche se la persona che indossa quell'abito è assolutamente immeritevole e disgraziata non si può contestare dalla dal questo esempio siamo passati poi a subvertising eh su questa sala non non su questa sezione non mi soffermo adesso perché ci ritornerò dopo eh poi c'erano le fantastiche vignette di Giorgio Franzaroli eh era una selezione di vignette puramente anticlericali quindi ehm tutte quante legate alla capacità delle gerarchie ecclesiastiche di condizionare la nostra vita attraverso escamotage comunicativi eh attraverso il rapporto con le emozioni più elementari come la paura della morte per esempio sono vignette molto carnali un personaggio da tratto ehm molto espressivo c'erano le cartoline di Mart con diverse versioni di Cecine Pamblas Femme si passava poi ad un caso di opera censurata quindi eh o meglio di opera rimossa la Madonna con Bottino di Alt è un'opera che è stata esposta in un festival delle arti dedicato anche quello alla libertà di espressione eh cosa è accaduto a quest'artista? Quest'artista va nella casa di famiglia e rinviene la riproduzione di una Madonna con bambino insieme a questa riproduzione trova tantissimi documenti originali che appartengono alla sua famiglia carteggi in effetti lettere scambiate con la curia locale che aveva venduto indulgenze a questa famiglia per decenni spennando generazioni e generazioni offrendo sconti di anni in purgatorio eh grazie tutto questo in cambio di denaro quindi cosa fa l'artista? Cancella Gesù lo trasforma in un bottino e trasforma la Madonna in una prostituta cioè un'immagine che viene venduta per rastrellare denaro se qualcuno di voi è mai andato a San Giovanni Rotondo o in qualche luogo dedicato alla Madonna può ricordare quanto questo è vero cioè c'è un flusso di denaro intorno alla esposizione in vetrina di reliquie eh di immagini veramente mh incredibile e spaventosa quest'opera mh fu presentata al pubblico nel festival che la mh propose per la prima volta nascosta da una tenda addirittura da una transenna c'era un addirittura anche un cartello che diceva non oltrepassare la transenna se sei di animo sensibile questa mostra tutela la libertà dell'artista eh contiene argomenti religiosi se se non fanno per te non andarla a vedere che cosa fanno questi fedeli che sanno anche di essere molto sensibili decidono proprio di oltrepassare la transenna la tenda di vedere l'opera e quindi finiscono indignati che cosa fanno e qui veniamo ad un altro punto caldo del nostro festival che è quello della reazione quando le la 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 cronaca i giornali parlano di un'opera considerata blasfema parlano di un'opera anticlericale offensiva nei confronti del sacro il punto di vista normalmente proposto si concentra sul tema della provocazione che quasi sempre è gratuita l'artista ha provocato come se non fosse normale che l'artista provochi come se non fosse mai avvenuto come se insomma fosse una novità dei nostri tempi che gli artisti provocano però nessuno si concentra sulla reazione cioè noi siamo l'epoca dell'immagine possibile che siamo così preparati a gestire e a leggere le immagini questa è una domanda che mi sento di fare a chi ci a chi ci ascolta quindi cosa fanno questi che reagiscono non reagiscono in termini culturali cognitivi intellettivi in termini puramente emotivi ma questa emotività che ha una grandissima dignità per carità è velocissima poco più di una percezione e dopodiché scatena l'inferno che cosa si chiede legittimamente ad un assessore che organizza un evento del genere le sue dimissioni certo un artista esprime una sua esperienza una sua indignazione tu assessora licenziati vai via e cosa succede succede che sono inviolabili le chiese ma non lo sono altrettanto i luoghi deputati alla cultura non sono inviolabili non c'è sacralità nei musei quindi succede che l'opera viene rimossa nonostante siano il suo contesto nonostante ci siano tutte le avvertenze del caso i fedeli si indignano l'opera viene rimossa però non possiamo parlare di ingerenza per carità per carità la sala successiva invece era una mostra molto ricca intitolata vittime di dio di ed era ed è un viaggio in un certo senso eretico perché ripropone il concetto di vittima in maniera ribaltata noi conosciamo la storia dei martiri dei santi questa mostra fotografica di nudi ci parla di vittime morte condannati al ruogo torturate uccise perché non religiose perché ate perché apostate perché eretiche questa mostra raffirma moccola e carlo corrini molto molto intensa le vittime di dio intitolata infine c'era la mostra di abel quindi ricapitolando abbiamo la legge abbiamo la cultura antividericale abbiamo l'opera censurata abbiamo l'opera era drammatica tragica che ha diciamo con il sacro un rapporto eh più che satirico eh più che sarcastico direi drammatico tragico rappresentato appunto dalla mostra di moccola e porrini arriviamo poi ad un caso molto particolare che è quello di abel ascona con questo lavoro che si eh intitola amen pederastia io ho accolto questo progetto perché era esemplificativo di ciò che io intendo eh una quando affermo che il concetto di blasfemia viene spesso troppo spesso strumentalizzato allora abel è un artista eh che nasce con la performing art con la body art quindi se conoscete marina bravo ci potete fare un'idea quindi un'artista che comincia con il proprio corpo che diventa luogo reale fisico della espressività dell'artista abel ehm è figlio di una tossicodipendente che si è prostituita quando rimasta incinta questa ragazza voleva abortire consapevole di non essere capace di affrontare la maternità ma vive a Pamplona che è una città molto cattolica e le viene impedito questa scelta le viene impedita quindi il bambino nasce ma più o meno all'età di due anni le viene anche torto e viene affidato ad una brava famiglia dell'opus dei questa brava famiglia dell'opus dei espone il bambino a violenze sessuali di vario tipo che si consumano all'interno della parrocchia di quartiere sono tantissimi i membri del clero della parrocchia che violentano questo bambino fin dalla più tenere età sotto la minaccia di una pistola quando abel abbandona la famiglia e diventa un artista ad un certo punto se non ricordo male nel duemila nel duemila quindici fa un viaggio a ritroso nel tempo rintraccia la propria madre quindi scopre la sua storia abel ci ha detto che il tentativo di aborto di sua madre è stato l'unico atto d'amore che lui ha ricevuto nella vita perché la madre con quella decisione avrebbe voluto proteggerlo da un destino di infelicità che lui di fatto ha avuto ritraccia la madre comprende quello che è accaduto e ritorna nella chiesa dei suoi peggiori ricordi in quella chiesa partecipa a circa 243 messe che corrispondono alle denunce per violenza sessuale ad opera di religiosi presentate quell'anno in spagna cosa fa in queste messe raccoglie l'ostia non la consuma alla porta a casa e con quelle ostie compone in una performance artistica la parola pedofilia sul pavimento non c'è il vilipendio dell'ostia l'ostia non viene maltrattata non c'è incitamento all'odio c'è semplicemente la messa in scena sintetica di questo corpo di cristo sfruttato sfruttato per fecondare una forma di violenza abberrante nei confronti di bambini a volte anche molto piccoli che cosa succede cosa fanno i cattolici con chi empatizzano con il bambino vittima di un'ingiustizia di violenza no empatizzano con le gerarchie ecclesiastiche diffamate e quindi intentano processi causa nei confronti di abbe che affronta processi per sette anni ad un certo punto diventa anche un po rocambolesca la questione perché lui si arrabbia è anche un po fomentato da quanto sta succedendo contemporaneamente all'attore di toledo anche lui denunciato dall'associazione degli avvocati cattolici per aver affermato delle cose brutte su dio in televisione non si presenta in tribunale parte in esilio volontario in portogallo poi ritorna ad ogni modo nel 2019 nel 2020 abbe viene completamente prosciolto dall'accusa perché il magistrato dice non c'è nessun vilipendio non c'è nessun incitamento all'odio l'artista con quest'opera ha inteso rappresentare un fenomeno drammatico questo è il festival per quanto riguarda le mostre poi ci sono stati spettacoli eventi live in cui abbiamo affrontato il problema in altri paesi quindi paesi a maggioranza islamica abbiamo raccontato teatralizzato storie che riguardavano altre religioni come il buddismo come l'induismo insomma abbiamo raccontato tantissime altre esperienze ma le mostre che si sono svolte al pan al palazzo delle arti di napoli sono diventate diciamo il centro comunque delle attenzioni perché la famosissima sala dedicata al subvertising di cui prima mi ho soltanto accennato è finita alla ribalta della cronaca che cosa c'era in realtà in quella sala innanzitutto c'erano gli ecce homo di ogra che dopo la denuncia per vilipendio della religione non ha affatto desistito e quindi ha riproposto l'opera in diverse tecniche a golio in scultura anche la immacolata conceptio di eh double why ehm diventa una scultura in occasione del festival una scultura che oltretutto c'è stata anche rubata ehm c'erano c'era il la la l'opera grafica di L3 molto bella anche quella che rappresentava un amore omosessuale c'erano le opere di Cefon e Illustrefeccia. Illustrefeccia ha portato a Sessine Pamblasfem un'opera precedentemente realizzata che eh rappresenta Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta è un personaggio molto amato per alcuni è un grande blef della contemporaneità perché Madre Teresa di Calcutta che è la santa della povertà e della cura dei malati in base ad alcune eh inchieste giornalistiche che sono state fatte e viene raccontata anche in un altro modo cioè come una persona che con i soldi tanti ricevuti anche da dittatori e responsabili genocidi non costruiva in realtà ospedali ma conventi luoghi dove diciamo eh le donne venivano messe e dissuase dal dall'interrompere la la gravidanza Madre Teresa di Calcutta da Illustrefeccia viene raccontata viene raffigurata come un insieme di teschi per lui non è la santa della povertà ma la santa della morte. Poi ci sono le opere di eh di Cefon. Cefon ci parla di una nuova religione quindi non si ehm lui non si confronta con il sacro forse l'unico artista che non lo fa nonostante sia quello che bestemmia esplicitamente perché nelle sue opere ci sono vere e proprie bestemmie di Okan principalmente. Qual è la religione che Cefon ci sta additando è quella commerciale, la religione consumistica, quella di propaganda. Quindi le bestemmie sono applicate non ad elementi di culto ma a marchi pubblicitari di vario genere o partiti politici. Che cosa accade? A mia insaputa certamente ma non non prendo le distanze da quanto è avvenuto perché è assolutamente eh normale che sia accaduto. Il subvertising è una forma d'arte eh che avviene nelle città. Il vero luogo del subvertising non è il museo ma sono le strade, sono gli spazi che normalmente vengono occupati dalle pubblicità. Loro se ne possessano. Quindi durante il festival questi due artisti illustrifecce Cefon installano abusivamente eh dei contro manifesti commerciali i loro. Cossia con opere che erano esposte all'interno del festival e anche con altre che al festival non hanno presentato. Passano dei giorni nessuno si accorge niente però c'è una circostanza molto particolare a Napoli. Siamo in campagna elettorale. Si deve eleggere il nuovo sindaco. Ci sono le liste, i candidati. Si somigliano tutte quante un po' tra di loro. Sono molti intercambiabili va diciamo così. Che cosa possiamo fare per entrare nelle grazie di persone poco competenti della politica che magari non andranno a votare? Bah offendiamoci. L'offesa funziona sempre a riscaldare gli animi. E così hanno letteralmente inoculato il senso dell'indignazione. E qui si è aperta una parentesi veramente incredibile che a guardarla da lontano era proprio surreale perché tutte queste persone che criticavano i poster non erano venuti a vedere la mostra quindi non sapevano che la mostra aveva un carattere fondamentalmente documentario. Queste storie che vi ho raccontato erano presentate con pannelli esplicativi proprio come esempi di un discorso di un ragionamento ed erano presentate in maniera problematica. Ovviamente partendo dal fatto che per noi punire la blasfemia è una cosa sbagliata. Certamente c'è una parzialità in questa veduta ma non credo che sia una colpa. Non sono venuti a vedere le mostre ma soprattutto non hanno proprio, non si sono proprio sforzati di leggere i manifesti per strada e quindi di rendersi conto, non si sono resi conto che con il sacro non c'entravano niente. Ma la violenza nei nostri confronti invece di scemare man mano che passavano i giorni è montata perché ad un certo punto c'è stata una trasmissione che su Rai 2 ha avuto un colpo di genio, se di genio si può parlare nel pessimo giornalismo. Ora amici avvocati mi hanno detto che c'erano tutti gli estremi per me per avanzare diciamo una denuncia per diffamazione però non lo so forse sono diventata patologica nell'amore per la libertà e ho pensato che in fondo questo signore fosse anche libero di fare una figura di merda perché io quando ho guardato la trasmissione ho pensato questo è un pazzo. Che cosa è accaduto in quei giorni a Napoli? In quei giorni a Napoli purtroppo è morto un bambino molto piccolo lanciato dal balcone da un domestico che evidentemente non era una persona a posto, non stava bene con la testa e ha fatto questa orribile cosa. Molti dei poster di Chef Fon utilizzano Topolino, la Disney per fare riferimento alle favole e al merchandising che diffonde una serie di favole a riguardo della famiglia tradizionale. Ecco l'utilizzo di Topolino e comunque del mondo Disney sarebbe secondo questa trasmissione ore 14 un chiaro disprezzo dell'infanzia. Cioè l'artista ha inteso vilipendere l'infanzia. Inutile dirvi che Chef Fon non solo non era al corrente di questi fatti, era completamente all'oscuro, ma probabilmente non vive neanche in Italia, vive all'estero, è europeo, è nomade, non segue la nostra cronaca locale, ma soprattutto queste sono opere precedenti, non sono state realizzate per il festival, sono state realizzate nei mesi scorsi, quindi sono state riproposte, non c'è una contingenza rispetto all'attualità. Direi che c'è una vera e propria casualità. Allora quando addirittura la strumentalizzazione arriva a questo punto, cioè a creare nessi e associazioni tra cose che non sono assolutamente collegate, secondo me un po' siamo alla frutta, un po' però possiamo francamente ridere perché è un castello di carta che veramente si sgretola, si sgretola da solo. Tuttavia questo riferimento all'infanzia così vile, così insomma sleale, ha fatto sì che il festival per la libertà di espressione in difesa della cultura anticlericale, che si è concluso il 30 settembre nella giornata internazionale della blasfemia, ha subito un'azione di censura. A malincuore, io a questo malincuore credo, perché io in questa vicenda ho avuto un ottimo rapporto con le istituzioni che hanno compreso gli obiettivi del festival, non li hanno ostacolati e quindi ci hanno concesso uno spazio che era di quasi 700 metri quadri, quindi non una stanzetta, parliamo veramente di locali importanti. Le pressioni che l'aggressione del PAN ha subito sono state peggiori di quelle che sono capitate a me. Capirete molto bene che l'accusa di mancanza di rispetto nei confronti dei bambini è molto brutta e Abel avrebbe dovuto portare una performance pensata proprio per noi. In cosa consisteva questa performance? Perché i livelli di gravità si capiscono sempre su un dato concreto. Abel si sarebbe presentato in piedi su un piedistallo vestito di nero e di fronte a lui ci sarebbe stato un bambino anche lui in piedi su un piedistallo. Tra Abel e il bambino non c'era alcun contatto fisico e neanche prossimità fisica. Il bambino aveva una pistola, ovviamente finta, puntata contro di lui. Nessun dialogo, nessun'azione. Quando il bambino si staccava scendeva e ne saliva un altro. La semplice descrizione di questa performance che è quasi fotografica. In effetti l'artista e il piccolo attore avrebbero assunto delle pose fotografiche perché erano mimi, immobili. Quindi direi veramente innocue. La descrizione di questa performance è stata sufficiente perché il PAN rifiutasse la realizzazione dell'evento con la giustificazione che le deva i diritti dell'infanzia. In che modo io non l'ho capito? Perché se un bambino non può prendere parte ad una messa in scena allora noi non dovremmo avere Shining, non dovremmo avere l'esorcista, non dovremmo avere frustranti pose fotografiche per le pubblicità della Benetton o di altri blog di moda. Io immagino che i bambini fotomodelli che fanno la pubblicità della Plasmon, dei pannolini, siano stati un po' fermi per essere fotografati 5-10 minuti, magari anche in momenti in cui avevano fame e volevano dormire. Non mi sembra che nessuno abbia lamentato uno sfruttamento minorile per queste cose. A maggior ragione se considerate che noi avremmo preso bambini più o meno dell'età di 8-10 anni che frequentano laboratori teatrali o che fanno danza e che quindi sono abituati non soltanto al palcoscenico ma anche alle prove. Le mie figlie che fanno danza in prossimità di uno spettacolo provano ore, 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 ore e noi genitori non pensiamo che siano maltrattate, sfruttate o negate nei loro diritti. Forse dovremmo cominciare a farlo, non lo so. Quindi questa è un po' la vicenda che però ha un interessante tassello che mi sono dimenticata di raccontarvi che è quella dell'intervento del flash mob dei madonnari che sono venuti al PAN a fare una contromanifestazione di cui io mi sono rallegrata molto perché penso che il conflitto non vada demonizzato, il conflitto tra idee. Cioè se io faccio qualcosa che per te è disturbante tu puoi rispondere. Rispondi con gli strumenti dell'arte, con gli strumenti della cultura, ci confrontiamo e arriviamo ad una sintesi o anche a una reciproca negazione. Però così come tu sei attento ai miei livelli di provocazione, io sono attenta alle tue modalità di reazione e un flash mob è secondo me una modalità civile e degna di attenzione. Erano pochissime persone che sono che sono venute, un madonnaro mi ha avvicinato e mi ha chissuto scusa dicendo che aveva praticamente accettato una marchetta perché faceva quell'intervento in cambio di 300 euro ma che lui non era assolutamente contrario all'azione che noi stavamo facendo e sono accadute delle cose molto divertenti. Uno degli organizzatori veniva intervistato da una televisione, suppongo una televisione locale e sosteneva che Napoli è una città santa. Ora noi sappiamo bene cosa succede nelle città sante, normalmente ci sono i bombardamenti, le segregazioni, i muri del pianto, quindi io sarei molto preoccupata di vivere in una città santa. Comunque questo signore ha presentato Napoli come una città santa dedita al culto delle divinità, quindi diciamo che già in quanto religioso ha commesso comunque un atto gravissimo perché ricordiamo che loro dovrebbero essere monoteisti e che assolutamente non avrebbe sopportato queste cose così scandalose perché Napoli non le fa queste cose. Siccome i madonnari intracciavano il traffico proprio in quel momento passa una macchina che bestemmia contro la madonna e questa cosa a me fa ridere perché c'è una persona che sta dicendo che la città non bestemmia e proprio in quel momento c'è qualcuno che lo sta facendo per un motivo stupidissimo perché c'è traffico, quindi a me viene da ridere. Questa cosa che io ho riso è diventata un'offesa contro di loro, quindi insieme a Mucchio mi hanno accerchiata chiedendomi perché io stessi ridendo, cosa gravissima. Io lì per lì non ricordavo neanche come mai avevo avuto questo momento di ilarità perché in realtà ero anche molto concentrata su quello che loro stavano dicendo. In quel momento faticavo a ricordare perché, dicevo ma perché ho fatto qualcosa di male ridendo, non capisco, non capisco. Una signora molto fedele e quindi sicuramente buona mi ha detto, io sono una persona educata e quindi non ti mando a fanculo, ma ti dico che tu devi andare sotto le bombe di Kabul, così capisci. Quindi questa signora dal cuore Pio non mi manda a fanculo, a differenza di me non dice parolacce, però mi augura la morte. Queste sono le composte reazioni delle persone che parlano in nome di Dio. Ognuno si sceglie i suoi avvocati, poverino, deve essere accorto di personale. Quindi la mia storia diciamo si conclude così, con una simpatica minaccia di porte pronunciata da una gradevole signora della porta accanto e con un atto di censura. Gli aspetti interessanti di Sessine Pan Blast Fem però sono altri. Erano anni che il Pan non aveva un tale flusso di gente e abbiamo ricevuto un sacco di complimenti perché abbiamo fatto tantissimi visitatori, centinaia in un giorno, anche in un giorno. E quindi sono rimasta molto contenta di questo perché le persone che venivano dicevano finalmente, finalmente, finalmente. Cioè non era vero che questa cosa che io vedevo era una micchia. Era di moltissimi, di moltissime persone abituate che per essere educate certe cose le devono esternare. Nel segreto della loro cucina mentre si fanno il caffè con la con l'amichetta perché altrimenti è sconveniente. Come diceva giustamente Adele, noi non è che proteggiamo, cioè non stiamo difendendo la la volgarità, l'insulto gratuito. Non è questo, non è veramente non è non è questo. Noi stiamo innanzitutto riconoscendo una dignità alla parola che ha un campo espressivo semantico di forza molto esteso. Quando parlo con i miei amici artisti io dico sempre una cosa. Io sono una cultrice della potenza della parola. Quindi per me la parola deve essere potente. Anche dire troppe parolacce significa veramente impoverire il peso della parolaccia. io vorrei delle parolacce potentissime di quelle che quando tu le senti rimane annichilito. Così come vorrei delle parole belle, potentissime che quando le senti va in estasi e quindi deve essere passimonioso nell'utilizzo di questi termini. Però loro mi sollevano una questione. Ma certe parole vanno depotenziate invece. C'è anche un intento diverso, quello di togliere il loro potere. Quindi dire tante volte una parola significa proprio togliere potere a quello che quella parola nasconde. E questa lezione noi amanti della satira l'abbiamo imparata da Lenny Bruce che negli anni sessanta in tribunale ci è finito varie volte per oscenità, per bestemmia. E cosa diceva Lenny Bruce? Io voglio dire la parola cazzo, la parola puttana, le oscenità. Centinaia, centinaia di volte. Perché io vorrei che le persone si indignassero per razzismo, segregazione. Queste dovrebbero essere le parole che ci fanno indignare, non quelle altre. Quindi l'intercalare svuota di significato l'insulto. L'insulto non c'è più perché diventa talmente abituale che non tu quando senti quella parola non immagini niente. Non immagini niente. C'è il niente. La paura del niente secondo me spiega molte cose in queste storie. Io ringrazio moltissimo Emanuela per il suo racconto del festival a qualche mese dalla sua conclusione e pongo ad Adele una domanda che ci fa Christian. Secondo te sarebbe possibile individuare o creare un caso di blasfemia o vilipendio e portarlo fino alla Corte Costituzionale? Allora, direi due premesse. La prima è che in realtà la Corte Costituzionale si è già espressa. Capisco che 1995 possa sembrare lontanissimo. In termini giuridici è molto vicino. Nel senso non sono intervenuti significativi mutamenti nella dottrina o nell'ordinamento da far pensare che investita nuovamente della questione la Corte potrebbe decidere in senso differente da quanto non ha fatto appunto nel 95 che ripeto anche lì tutto è relativo ma in termini giuridici è più o meno l'altro ieri. Calcolate che la sentenza che dice che la laicità è il principio supremo dell'ordinamento dell'89 e per rubare la battuta a un professore di diritto ecclesiastico professor Conforti appunto a un principio nel senso che siamo ancora all'inizio adesso nel 2021. Quindi in realtà la Corte si è più o meno già espressa e ha già trovato il suo escamotage più o meno condivisibile ovviamente la parte nostra non lo è ma insomma più o meno condivisibile per ritenere la blasfemia e il vilipendio ancora perfettamente integrati integrabili nell'ordinamento. Calcolate che sul vilipendio la Corte Costituzionale è intervenuta nel 2009, scusate nel 95, nel 99, nel 2000, nel 2005 mi sembra l'ultima volta eliminando, abrogando, limando, levando riferimenti alla religione di Stato eccetera eccetera ma insomma ancora più recentemente che nel 95 sul vilipendio è proprio intervenuta. Seconda considerazione teniamo sempre presente quando noi parliamo di Corte Costituzionale che a meno che non si sia lo Stato o quindi il governo o le regioni o i parlamentari ma insomma anche lì con determinate condizioni non è possibile arrivare da privato cittadino o anche da associazione ma insomma non è possibile arrivare in Corte Costituzionale, non è un grado di giurisdizione come l'appello o come la Corte di Cassazione. Si arriva in Corte Costituzionale solo se all'interno di un procedimento il giudice rileva una possibilità il cosiddetto fumus boni iuris di un'incostituzionalità ma appunto una semplice possibilità di un'incostituzionalità e in questo caso sospende il giudizio e manda in Corte Costituzionale ma quindi appunto è il giudice stesso non dipende dal ricorrente dipende dal ricorrente tentare di convincere il giudice che si stia trattando una causa che riguarda profili di incostituzionalità ma al di là che non sempre accade comunque non è mai un procedimento diretto. Io penso nonostante appunto la mia sarà notata propensione per le robe da zecca garbugli ma io penso che in molte di queste tematiche e quelle della blasfemia del vilipendio essendo come si dice questione di costume eh siano fondamentali le le proteste civili molto per certi versi più e prima appunto con contro le mie passioni e i miei interessi ma più e prima di una possibile iniziativa legale soprattutto su tematiche sulle quali appunto in realtà le pronunce ci sono già state anche se purtroppo non ci piacciono neanche un po'. Ne approfitto scusate di questa domanda la serie ringrazio per la domanda però per dire una cosa fondamentale che mi ero dimenticata prima e cioè che come war proprio sulla blasfemia sulla libertà di espressione sugli hate speech contro eh i non credenti e in generale sulla tutela del sacro e quindi contro le quanime tutela dell'altra faccia della quindi della libertà della religiosa della libertà di non credere luar con molto orgoglio appena bandito una borsa di ricerca all'università di Firenze presso il dipartimento di studi giuridici eh come è successo prima appunto con la nostra borsista che magari ci segue la dottoressa Baldassare che saluto con con stima e affetto l'autrice del nostro codice della libertà di non credere la prossima borsa che grazie a professor Marco Croce appunto all'università di Firenze possiamo incardinare in un'istituzione così prestigiosa sarà per l'appunto dedicata proprio alla alla blasfemia eh e quindi oltre ai consigli pratici tipo come si dice è vero che si può bestemmiare la Madonna perché non è una divinità ma attenzione che se ne toccate la statua potete finire in carcere per due anni eh per quanto riguarda noi war ecco ci aspetta un anno di dire di studi di alto livello che speriamo presto di vedere tradotti in nuovo volume tra l'altro per la nostra piccolo spazio pubblicità eh collana giuridica Iura della nostra casa editrice Nessun Dogma quindi è un argomento che particolarmente seguiremo anche nei prossimi mesi. Grazie mille Adele eh faccio presente che ci sono stati parecchi complimenti quindi fa sempre piacere ovviamente riferirli Stefano ci dice molti interessanti complimenti e poi abbiamo parecchi link anche grazie mille a chi ha condiviso link come Roberto o Mitch e Leonardo dice efficaci non so cosa sia successo tutto ok eh efficacissima Adele abbiamo le presenze questa è la macumba meraviglioso Rachele dice Adele interessantissimo grazie quindi ringrazio anche appunto per tutti gli artisti che Mitch ha linkato nel mentre così possiamo approfondirli vi ricordo che questa chat questa questo video rimarrà disponibile sulla pagina Facebook di War Modena e anche sulle pagine che l'hanno condivisa e sul sito di War Modena e a Silvia ci dice con stima e affetto vi seguo in questo bellissimo incontro e Angelo vi ringrazia e ci augura buon lavoro quindi dobbiamo avviarci verso la chiusura perché siamo andati un po' lunghi ma è stato davvero un piacere passare questo tempo con voi io vi ricordo che il prossimo appuntamento in presenza di War Modena sarà in occasione in occasione del Darwin Day il 10 di febbraio il nostro Darwin Day il 10 di febbraio del 2022 in presenza in Sala Redecocca con il nostro socio Marcello Pinti che ci parlerà delle varianti virali e delle loro evoluzioni ringrazio tantissimo Leonardo Filippelli per avere coorganizzato con War Modena e questo evento ringrazio Adele ed Emanuela per il tempo che ci hanno donato e vi auguro una buonanotte un'ultima cosa da dire non so se il microfono mio si sente ok per parcondice senso di rivalza o in questo momento collegato nella nostra chat privata il link ad un divertente blob che hanno realizzato c'è Fon ed illustre feccia in risposta a quello che è accaduto intorno ai loro manifesti se potete girarlo nei commenti delle persone che hanno seguito mi fa piacere immaginare che dopo i nostri saluti si vanno a guardare la risposta degli artisti ai nostri detrattori così continuiamo a divertirci e Falsi Magritte è l'associazione che insieme a Ciorma Pasta Fariana e a tutte le altre organizzazioni che ci hanno accompagnato come Ugar, Ugar Iniziativa Laica, Micromega andremo avanti con Sesine Pan Blasfemo che ci aspetta nel 2023 questo è un anno staffetta che dedicheremo ad una programmazione puntuale però vi saluto con un cortometraggio satirico grazie mille Manuela buonanotte a tutti buonanotte 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 buonanotte